nuovo video unboxing ciao ragazzi come si fa si fa con l'elefone perché questa cazzo di copro si è bloccata di nuovo per evitare che io bestemmi andiamo ad aprire il pacco potete capire com'è molto ma molto brutto registrare con uno smacco potete capire benissimo da soli comunque ragazzi io siccome ho tantissimi lavori in questa settimana e di portare altri video unboxing per voi comunque questo è il secondo pacco acquistato comunque se volete spedire qualcosa via pilata 16a presso gli eventi ci sbara gli eventi chissà niente secondo acquisto nel mondo di ebay nel mondo del ebay delle aste un mondo nuovo per i miei chiudiamo perché sono ci rompono perché praticamente qui non si può neanche registrare a volte peccato comunque colore argentato viene malissimo anche appoggiare il telefono metterò così compiuto ancora aspettando a norvi caro norvi se guardi questo video ne ho bisogno di bisogno ti prego comunque l'odore di nuovo usato è un po' usato questo si sa il nostro caro medicom è scarico sicuramente manualistico con le etichette tutto usato di direi pochissimo con varie manualistica e vari libretti carica batterie imballato bene nella sua confezione cavo per usb molto molto utile e poi insomma caricatore che andremo a prelevare dalla confezione come vi ho fatto vedere anche qui c'è stata la confezione appena appena nuova nuova di zecca tablet usato pochissimo io voglio azzardare a dire quasi mai usato non posso essere sicuro al cento per cento ok dovrebbe partire se non funziona non so ragazzi che cosa si dovrebbe fare vinto per l'asta di 50 euro alla fine qui 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 il led di ricarica appena appena appalso questo dovrebbe se la volevano fare la porta hdmi e neanche stata fatta però ci stete il disegno soltanto Poi se vedi il costo Meglio non farlo Sta, ragazzi Sta partendo Questo ragazzi E con Windows 10 E ragazzi a me serve tantissimo Per che cosa Non lo saprete Non vendetemi in giro Questo a me ragazzi serve Per Trasferire tutti i file Dalla chiavetta E sistemarla Ciao Link Scusate Più zero Più zero Più o Non mi ricordo bene Forse più Sì sì Ho sbagliato Non so ragazzi Che Se prendono un'altra Gopro Un'altra Gopro La voglio prendere Però a Natale Ragazzi non ho i fondi Ma un'altra Ragazzi Che sta succedendo Comunque ragazzi La vorrei prendere Però a Natale 50 euro Ci valgono tutti Ragazzi Ragazzi E non ho Se ragazzi Per scrivere Su word Perciò ragazzi Le recensioni Che io do Sui prodotti Li do Per lusso Che faccio io Ragazzi Perciò voglio Ragazzi Avvisare il pubblico Che mi seguo a casa Perché praticamente Se io dico È bello Poi Praticamente Qualcuno Lo usa E spera di giocare Con un gioco di steam Mi manda a fangur Ma è ovvio Ragazzi Non è un Prodotto In cui si può sperare Il Di usare steam Ragazzi È sempre un prodotto Che Dovete avere qualcosa Da fare Ragazzi Capace Chi l'ha acquistato Voleva Montare qualche Vito E praticamente Non c'è Partito Ma ragazzi Praticamente Ancora È nuovo Allora Intel Inside Processore E l'intel Ragazzi Sono un po' Sensori Buoni La ram È un giga Questo è il problema Però ragazzi Alla fine Sempre Cosa Dobbiamo Fare 16 giga Di memoria Interna Pochissima Quad core 1,83 Cicletze Qui un po' Processore Anche se Intel Però Dai Però 1,83 GHz Se mettevamo Qualche ram in più Era Buon prodotto Batteria 2500 mAh Ragazzi Io lo Guarderò Lo Guarderò Bene Vi dirò Come va Il Full HD Monitor Massimo 32 giga La memoria Rispondibile E-mail Telefono Skype Ragazzi Io l'ho fatto Per farvi vedere Che va Ci vediamo In un prossimo Video Questo è stato Il video unboxing Del prodotto Che ho vinto Su ebay Come asta E si chiama Winpad 7.0 Cercatelo Perché merita Comunque ragazzi Ancora Imballato Il Uno degli affari Più importanti Per i Tablet Windows Cioè questo Per mettere Tastile e mouse Ci vediamo In un prossimo Video Bella ragazzi Ciao ragazzi Seguitemi Su Instagram Youtube Facebook Su tutto Ciao ragazzi Al prossimo Video